Levata di scudi anche in provincia dei Frosinone per l'arrivo dei rifiuti da Roma dopo il provvedimento del presidente Zingaretti, che obbliga tutti gli impianti di trattamento dislocati sul territorio della regione Lazio a ricevere e lavorare quantitativi di rifiuti indifferenziati al massimo della capacità autorizzata. Tra questi vi è anche la SAF di Colfelice. A gettare acqua sul fuoco è il presidente della società dei rifiuti Ciociara, Lucio Migliorelli, che si rivolge alla comunità, invitandola ancora una volta a comprendere, prima ancora di condividere la oggettiva esigenza di porre urgente rimedio ad una crisi ambientale che potrebbe sfociare in una seria problematica sanitaria con effetti devastanti sulla salute degli abitanti di Roma. Lo stesso Migliorelli assicura che nemmeno un grammo dei rifiuti che arriveranno dalla capitale resterà nella provincia di Frosinone. Gli scarti della lavorazione, infatti, dice, vengono inviati presso la discarica di Colleferro. Il presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, invece non ci sta e dice basta ai rifiuti da Roma. La nostra pazienza ho il limite ed ora è stato abbondantemente superato, si sfoga. Pompeo chiede alla sindaca Raggi di affrontare la questione in prima persona. Le province del Lazio, afferma, non sono più disposte a tollerare questo comportamento perché oltre a non sapere amministrare, dimostra anche tanta superbia nell'affermare che mai autorizzerà la realizzazione di impianti e discariche nella capitale. Come presidente dell'Unione delle province del Lazio, inoltre Pompeo, convocherà subito un direttivo con gli altri presidenti per elaborare un documento comune in cui ribadire, come già fatto in precedenza, tra l'altro, quest'aspetto che di fatto boccia e commissaria definitivamente la sindaca o ex sindaco è ormai il caso di dire, dice il presidente. A chiedere le dimissioni della sindaca di Roma, anche la deputata della Lega e coordinatrice provinciale del partito in provincia di Frosinone, Francesca Gerardi, ed il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Gianluca Quadrini. Grazie a tutti.